Stiamo evacuando la base. Dobbiamo rientrare e fornire assistenza. Se questi sono i condini, a me sembro di scappare. Rico! Non resisti, Rico! All'azione, ho bisogno di un'altra. Grazie. Quando me ne devi unire? Neckler, la base è sotto attacco. Torna qui per supportare l'evacuazione. Ci sono tre VPSA sul posto. Il ministro F. Milcher, la ricercatrice bellica Evelyn Button e il generale Dwight Stratzon. Non dovrebbero finire nelle mani del nevolo. No! Arrivano! Non c'è l'aiuto! Questa non è un posto dove mettere radici. Non c'è l'aiuto! Non c'è l'aiuto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.